Ci siamo, è stata una corsa contro il tempo, ma siamo finalmente arrivati alla settimana dedicata a Fano all'interno di Capitale della Cultura nel programma 50x50. Una settimana ricchissima, così ricca che inizia un giorno prima. Partiamo il 3 marzo e come iniziamo questa bellissima settimana e ricchissima settimana? La iniziamo inaugurando uno spazio dedicato a tutta la città e a tutte le associazioni che è la nuova Sala della Cultura. Alle ore 11 domenica 3 venite in via Orco d'Augusto 81 per vedere la nuova Sala della Cultura. Una sala che sarà a vostra disposizione e che in questa settimana ospiterà tantissime iniziative. L'inaugurazione sarà dedicata a presentarvi il ricchissimo programma di Capitale della Cultura che si è arricchito negli ultimi giorni ulteriormente e sarà dedicata anche a Leandro Castellani, un illustre cittadino fanese che ha portato Fano ad essere famosa nel mondo ed è giusto che la città gli renda omaggio. Quindi vi aspettiamo domenica 3 ore 11 per partire con Capitale della Cultura nel modo più bello e coinvolgente possibile attraverso l'inaugurazione di una sala dedicata proprio alla città. E poi vedrete in questa settimana ci saranno veramente tantissimi appuntamenti.